Se volete fare un film bello, ma proprio bellissimo, che guadagna un sacco di soldi, dovete cambiare storia. Farei una storia più appassionante. Per esempio? Non so, una contessa con lo stagliere. Una donna di classe, una meraviglia. Orgogliosa, superba. Che lui la prende di forza, lei non vorrebbe, ma lui la prende di forza. Una sera fra i cavalli. E lei si gonfia. Si gonfia? Sì, si diventa incinta, subito, la prima volta. Cosa fai, Francesco? La legna, la porto nelle stanze. Perché? La metto accanto ai cammini. Ma non serve, non importa. Sì, invece, vai, vai, che ti fa bene. No. Non è il momento. Allora? Dicevi della...